Abbiamo letto adesso che il Consiglio di Amministrazione di Telt ha approvato all'unanimità i bandi per quello che riguarda la TAV, che è una delle tante opere pubbliche, capisco l'interesse giornalistico, però ce ne sono 300 di cantieri da riaprire in Italia, porti, aeroporti, ferrovie, metanodotti e quindi contiamo che nell'arco di qualche giorno, non di qualche settimana, nell'arco di qualche giorno il Governo e il Consiglio dei Ministri porti in approvazione un decreto urgente sblocca cantieri e sblocca appalti, perché se non si rivede il malefico codice degli appalti partorito dai geni che ci hanno preceduto evidentemente non sblocchi molto, guardavo casualmente il dossier della Asti Cuneo che è ferma da sette anni, è ferma dal 2012, quindi quando ci sono i fenomeni di sinistra che ci spiegano come si sbloccano i cantieri, mi domando cosa abbiano fatto nei numerosi anni che li hanno visti al Governo, visto che noi siamo qua da nove mesi, sono convinto che si sia sulla strada giusta e mi sembra dalle dichiarazioni, oggi anche il Presidente del Consiglio Conte in visita in Veneto, evidentemente è un'area che stimola pensieri positivi, ha detto che bisogna sbloccare tutti i cantieri bloccati e quindi siamo esattamente sulla stessa lunghezza d'onda. No, tutto è migliorabile per carità di Dio, però i fatti dimostreranno che stiamo lavorando per andare avanti e non per tornare indietro.